Mi chiamo Chiara e studio linguistica all'Università di Bologna. Da cinque mesi vivo a Berlino per completare la mia tesi sul creolo della Guinea-Bissau. A consigliarmi di venire qui è stato il mio relatore, che mi ha indicato un dottorato di ricerca su questo tema. Mi affascina vedere come dall'incontro di lingue differenti possono derivare nuovi idiomi, come i creoli e i pigini. Il lessico del creolo della Guinea-Bissau attinge principalmente al portoghese, in parte anche alle lingue africane locali. Come Bologna, anche Berlino è una città multiculturale e sono felice di aver approfondito i miei studi universitari in entrambe le città. Facciamo tutti parte della biodiversità ed è grazie ad essa che la natura è in grado di fornirci cibo, acqua ed energia. Nel mio piccolo amo intendere la diversità, non solo delle lingue, come uno dei valori fondamentali.